segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora stiamo parlando di persone che possono lavorare e ribadiamo che lo scopo e lo strumento è quello di la dignità al nord come al sud avere un lavoro e quindi tra essere assistiti dallo stato e prendere 600 700 euro al mese ed avere la dignità di un lavoro pagato il giusto perché ricordo che deve essere pagato secondo i contratti nazionali del lavoro altrimenti non è un'offerta di lavoro io credo che la strada migliore sia quella di prendere il lavoro perché la dignità per tutti noi è il lavoro nel momento in cui tu sei assistito dallo stato anche nel caso di specie che abbiamo fatto anche in quel caso noi abbiamo tolto io quello che penso è la congruità di un'offerta è diventato l'alibi per non rispondere ad un'offerta di lavoro è un dato oggettivo non un dato soggettivo le faccio io questo esempio la cosa che mi ha colpito di più al nord come al sud dei dati del reddito di cittadinanza che il 39 per cento dei percettori di reddito di cittadinanza sono sotto i 29 anni noi siamo stati tutti giovani voi molto meglio di me io ricordavo sotto i 29 anni quindi poi parliamo di 29 questo è il dato che ho visto io potete fare il faccetto posso sbagliare lo facciamo perché io ho dati dell'inps che dicono che per settori giovani tra 18 e 34 anni sono 50 49 mila ma un giovane secondo me posso sbagliarmi o può sbagliarsi non importa ma il tema del giovane sotto i 29 anni io ho fatto l'autista l'insegnante sono andato a raccogliere la frutta in campagna perché i miei non potevano mantenermi all'università aveva la dignità e il dovere di avere un lavoro perché per me la dignità è un lavoro mio papà e la mia mamma sono emigrati dall'abruzzo nel 1957 sono andati a milano a cercare un lavoro dignitoso e hanno messo al mondo due figli allora il problema è il lavoro che realizza e che contribuisce alla realizzazione di tutti o l'assistenzialismo io credo che bisogna capovolgere la logica detto questo dobbiamo lavorare insieme perché appunto l'offerta e la domanda di lavoro si incrocino perché il tema non è il salario minimo il salario minimo è un salario che abbassa la dignità del lavoro il problema è creare le condizioni per cui il salario sia adeguato e l'offerta sia fatta per tutti abbiamo un problema di specializzazione abbiamo un problema di formazione sapete quanto spendiamo questo dato almeno credo che lo concordiamo nei tre anni quanto abbiamo speso per il reddito di cittadinanza 26 miliardi di euro 25 miliardi virgola qualcosa 25 miliardi di euro di risorse per tutti se il 30 per cento di queste risorse quindi tolgo tutti quelli che sono e che hanno il dovere di avere un reddito e un salario dignitoso se non possono lavorare se hanno figli a carico eccetera li avessimo utilizzati insieme per darli alle imprese per integrarli per fare la formazione forse oggi risponderebbe che il reddito salvato secondo lista un milione di persone dalla povertà io non so se li hanno salvati dalla povertà o li hanno ributtati in una dignità io vorrei argomentare con altri dati il tema sostanziale che si dice sempre che il reddito è una sorta di vitalizio nei confronti di coloro che non vogliono lavorare io ho un dato che sempre dell'istat che dice che su cinque milioni di percettori in generale cinque milioni di persone che hanno preso almeno una mensilità del reddito due e mezzo sono uscite dal reddito quindi vuol dire che sono riuscite in qualche modo a trovare un impiego comunque trovare situazioni che il fatto che la gente voglia mantenersi il reddito non è realtà l'altro l'altro punto è che noi stiamo parlando comunque di una misura che per i tre quarti perché gli occupabili su cui tanto stiamo discutendo sono 660 mila nei confronti di due milioni e mezzo di percettori sono persone che comunque sono necessitate di avere un supporto sono persone fragili sono persone che non avrebbero altro modo di sostentarsi quindi il fatto che debbano comunque continuare a prendere un supporto da parte dello Stato credo che sia una cosa che sia necessaria l'altra cosa che è fondamentale che invece io voglio ricordare è il fatto che noi stiamo dicendo che è vero che adesso stiamo parlando degli occupabili ma dal primo gennaio 2024 noi il reddito lo toglieremo a tutti a me quello che sorprende è che normalmente si sostituisce una misura ma non si dice io te la tolgo a fronte di qualcosa che ancora francamente non abbiamo discusso nessuno di noi a nessuno di noi è dato sapere che cosa succederà per esempio dopo agosto che cosa succederà dopo gennaio 2024 quindi questo momento bisogna fare un atto di fiducia sapendo però quello che sicuramente accadrà il fatto che queste persone al momento non avranno sostegno poi tornando anche al vostro servizio a Salvatore che a me piace sempre ricordarmi che si tratta di persone credo che questo possa essere condivisibile il fatto che comunque stiamo parlando di persone in difficoltà comunque le si voglia vedere noi abbiamo visto quello che succede con la congruità con la congruità succede che dopo sette mesi io il reddito non lo prendo più e debba accettare un'offerta di lavoro in qualsiasi parte d'Italia io quello che ho visto però mi posso sbagliare quindi chiedo anche all'onorevole Lupi è che chi può accettare un'offerta di lavoro e Salvatore tra gli occupabili pur avendo una famiglia a carico e delle disabilità a carico è esentato dalla formazione ma non è detto che sia esentato dal fatto di non ricevere più il debito se riceve un'offerta di lavoro da qualche parte quindi anche Salvatore ha come dire legge esistente può accadere di ricevere un'offerta di lavoro in Friuli Venezia Giulio in Lombardia o in Piemonte e doversi spostare però magari mi sbaglio no su questo adesso voglio dire adesso poi bisogna essere anche seri e realisti nel caso di Salvatore abbiamo detto che rientrerà sempre a riforma A o a riforma B rientrerà nei casi giusti di un'assistenza doverosa anche dovesse rinunciare questa è la domanda anche dovesse rifiutare i proposti di lavoro anche dovesse rinunciare perché rientra nella categoria delle persone che hanno una famiglia e hanno tra l'altro due ragazzi disabili a carico il tema della persona al centro credo che ci debba accomunare e io a me non piace questa idea per cui chi vuole riformare il rete di cittadinanza è un mostro che vuole creare la povertà e invece chi l'ha introdotto è a favore della lotta alla povertà stiamo individuando e confrontandoci con due strade diverse la nostra è quella di riformare un reddito e di cambiarlo una parte deve essere continuare a darlo poi lo chiameremo reddito di inclusione, reddito di cittadinanza eccetera e l'altra invece deve essere dedicata a far sì che il lavoro ritorni ad essere al centro del nostro sistema le parla uno che quando era ragazzo e la situazione negli anni 80 era drammatica quanto quello più di questa da un punto di vista dell'occupazione ha fondato insieme a tanti altri ragazzi i centri di solidarietà cioè la possibilità di darsi una mano a tutti per creare un rapporto tra domande e offerte quindi voglio dire non sta parlando con un mostro sta parlando con una persona che è sensibile io sono nato in una meravigliosa periferia di Milano che si chiama Baggio conosco tutte le quartiere gli nomi se vuole andiamo insieme continuo a vivere lì perché quello per me è il posto dove sono nato la mia battaglia da sempre nella vita è che se uno è nato in un quartiere di periferia non per quello deve essere sfortunato eccetera eccetera allora qui si tratta di confrontarci su strade diverse e legittime quando voi siete stati eletti cinque anni fa avevate il reddito di cittadinanza e l'avete introdotto secondo noi è fallito tra l'altro è sotto gli occhi di tutti che qui c'è un problema di raccordo tra la domanda e l'offerta la congruità anche qui bisogna smetterla di dire non è solo la distanza il primo problema della congruità sono due criteri che cinque anni fa o tre anni fa avete introdotto il primo che non è la distanza è quello che uno può rifiutare il lavoro se non lo sente congruo rispetto alle sue aspettative ma quali aspettative? ma anche Conte che mi fa l'esempio di un ingegnere che è costretto a fare il lavapiatti a parte il fatto che in questo paese c'è bisogno di ingegneri e un ingegnere laureato, lo ricordo al Presidente Conte trova immediatamente un lavoro lei ha davanti una che è fatta l'imprenditrice a livello mondiale lei quante lingue parla? cinque, quante lingue parla? no, per dire perché poi i fenomeni vanno inquadrati ma il tema sostanziale secondo me sempre tornando alla congruità che poi uno deve avere anche un livello di vita sostenibile se io prendo un percettore di reddito che vive in Sardegno che vive in qualsiasi regione del sud e gli chiedo di andare a vivere in un contesto per esempio Milano dove la vita oggettivamente costa miliardi di volte di più rispetto a quello che può essere quello che lui prende perché l'erogazione media del reddito sono 550 euro diventa veramente difficile dire a questa persona tu comunque vai lì e diventerai un lavoratore povero perché poi c'è anche questo gran parte di coloro che in questo momento percepiscono il reddito lo prendono anche a sostegno di un lavoro che comunque è povero e ce n'è una percentuale sostanziale quindi il punto è noi comunque possiamo parlare di misure varie io sono una persona, sono una novizia della politica ho iniziato a fare politica da tre anni lei sa benissimo che è molto più esperto in istituzioni considerando che ha iniziato nel 2001 e quindi ha grande esperienza nelle istituzioni non mi sembra che quello che c'è stato prima abbia introdotto delle soluzioni sostanziali a questo tipo di problema il problema è che si è stratificato nel tempo si è stratificato negli anni comunque il fatto di approcciarci in maniera corretta ha un tema che è così complicato non ha ricette magiche e questo credo che lo possiamo dire noi abbiamo trovato una misura che comunque è una misura europea visto che l'Europa la Commissione Europea ha detto a settembre agli Stati membri qualsiasi tipo di misura che si avvicina a un reddito a sostegno dei più poveri deve essere rafforzato quindi non mi sembra che sia andando in maniera contraria a questa direzione se poi c'è da migliorare è un conto ma se si tratta di smantellare come è stato fatto è una cosa completamente diversa io quello che vedo in questo momento è smantellare e soprattutto fare cassa perché questo è quello che si è visto nella finanziaria rispetto a una misura che si è costosa ma veramente noi abbiamo affrontato una pandemia stiamo affrontando una guerra stiamo affrontando una crisi l'ha vissuto quella del 2008 che non è paragonabile rispetto a questa e abbiamo ovviamente cercato di sostenere le persone da questo punto di vista io quello che ho visto in finanziaria in finanziaria ho visto il sostegno alle pensioni del Principato di Monaco ho visto delle cose indegne ma questo non è vero è una stupidata quello che sta dicendo in finanziaria quello dei transfrontalieri glielo dico perché è un emendamento fatto da una nostra collega della Liguria e non riguarda le pensioni di Monaco ma se lei siccome fa l'imprenditrice non mi scusi perché diciamo che è vero lei ha una visione diversa dalla mia e sono corretta io confesso di non aver visto questo emendamento però lui ho visto l'emendamento cerchiamolo l'emendamento è un emendamento firma Cavo e poi dei relatori che riguarda la Liguria i nostri lavoratori transfrontalieri cioè quelli che da 20 miglia attraversano il confine e vanno a lavorare dall'altra parte quindi non i residenti nel Principato di Monaco io credo che l'opposizione sia legittima lo dico anche alla collega vogliamo parlare delle squadre di calcio? sì sì ah guardi io sono le squadre di calcio io sono le squadre di calcio lei sfondo una porta aperta voglio dire che c'è un piacere non è dei mancati non è dei mancati diversamenti Iva e delle società sportive e delle società di calcio mi scusi se va a vedere le mie dichiarazioni sulle squadre di calcio sfondo una porta aperta a proposito di calcio nel senso che il gol mettiamo perché io non sono d'accordo e quindi mi sono sempre pronunciato detto questo no ma anche lì non costa perdoni non costa 900 milioni le squadre di calcio i mercati diversamenti Iva è la ratizzazione no 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 però il problema è il mercato introito perché queste misure non sono gratuiti se sono 900 milioni sì sono 900 milioni quello che lo Stato sicuramente non i cassa ma poi io la cosa è che non i casserà dilazionato eccetera eccetera ma questo vale per le squadre di calcio come per tutte le imprese quindi non sono un mercato introito ma sono un dilazionamento prima di andare però da Nicola Campagnani che vedo con un ospite per continuare a seguire come stiamo facendo all'inizio